Ferrari è da sempre presente nelle competizioni GT. La nostra storia è costellata di successi nell'ambito delle gare turismo. Fin dagli anni 60, a Pellinetta Ferrari hanno vinto le gare più importanti, dunque dalla 24 ore di Le Mans, alla 12 ore di Cybring, alla 24 ore di Spa, tutte le corse che hanno fatto la storia del nostro brand. Siamo in un livello di competitivo che tutti i dettagli sono stati a un livello di top, quindi se c'è una ragione o di dettagli che possiamo migliorare, sia per la racetrack o per il sviluppo o per il sviluppo o per il sviluppo, tutto è davantage. Per noi è una cosa buona, e spero con i risultati possiamo farlo più veloce. E come sempre cerchiamo di associare il nostro brand con partner che sono altrettanto leader nei loro ambiti. E anche in questo caso con Ansis abbiamo cercato un leader nella propria area di competenza e così è nato questo sodalizio che ci sta portando a un'attività sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista promozionale che chiaramente sta dando i suoi frutti con dei risultati assolutamente importanti. Abbiamo deciso di usare l'Ansis perché solo in Ansis abbiamo trovato la velocità, la velocità, l'accurazione e la realizzazione. Abbiamo deciso di usare l'Aero-Developpamento, senza l'Aero-Developpamento, senza l'Aero-Developpamento, nel mondo del mondo del mondo. In il mondo del mondo del mondo, il tempo è forte, e così solo l'Ansis scalabilità dell'Aero-Developpamento e l'Aero-Developpamento dell'Aero-Developpamento. Abbiamo deciso di usare l'Aero-Developpamento per ottenere il processo e ottenere i migliori risultati. Abbiamo deciso di usare l'Aero-Developpamento per l'Aero-Developpamento della simulazione, e la nostra performance è sicuramente migliore. Abbiamo fatto un fantastico lavoro con la Ferrari. Abbiamo avuto un grande miglioramento, quindi è una buona combinazione. Aero-Developpamento